Ci opponiamo per il semplice fatto che questa struttura sarebbe adiacente alla zona dei binari del treno e in più andrebbero a distruggere delle abitazioni, dei terreni ricchi di agrumedi e di ortaggi. In più questo deposito verrebbe ubicato nelle zone adiacenti alle case di Pistunina. Un altro problema molto serio è la viabilità. Come ben sapete dal deposito si entrerebbe solamente dal villaggio Urra, quindi ingresso e uscita di questi mezzi pesanti andrebbero a disturbare il traffico di questo piccolo villaggio che ha delle strade veramente molto piccole. In più nel villaggio Urra a parte le abitazioni ci sta anche la scuola e ci sta anche la chiesa. È un villaggio molto frequentato dai bambini e dai ragazzi e direi che sarebbe veramente molto molto pericoloso. Noi siamo, ripeto, per il no al deposito. Sappiamo bene che questo combustibile è un combustibile green, però nella zona del villaggio Urra di Pistunina e di Contesse gli abitanti noi come comitato diciamo no. Perché no, non sfruttare già le zone industriali tipo quelle di Gian Moro e appunto non deturpare questo affascinante frontemare che da qualche anno stiamo sfruttando come abitanti. Infatti era da circa gli anni 70 che non usufruivavamo della spiaggia e del mare. Adesso da pochi anni, anche grazie all'ultima amministrazione, siamo riusciti a sfruttare e usufruire di questo bellissimo mare. Verrà organizzato il giorno 6, 7 e 8 maggio la raccolta firma per la petizione del no al deposito e comunque tutti gli abitanti verranno informati tramite la pagina Facebook no al deposito.